Ciao a tutti, questo è un invito alla lettura del libro di Faith Harper intitolato Spegni sto cazzo di cervello, il geniale metodo scorretto, ma scientifico, per vincere stress, ansia e tutto ciò che ti guasta la vita e ritrovare una volta per tutte la meritata felicità. Introduzione Ansia, stress, irritabilità, a volte persino rabbia, scelte di vita sbagliate, relazioni tossiche, una perdita traumatica. Questi sono alcuni esempi delle cose che ci incasinano il cervello. O come mi ha detto qualcuno, ah ok, un normale lunedì mattina. Molto di ciò che chiamiamo disagio psicologico è in realtà un caso di chimica del cervello impazzita. E gran parte di tutto questo deriva dagli eventi stressanti e traumatici che dobbiamo affrontare. Siamo sempre stati abituati a ritenere i nostri poveri geni responsabili per tutti i diversi modi in cui reagiamo a una situazione di stress e trauma. Ma ricerche recenti mostrano che solo il 2-5% delle diagnosi deriva da un gene difettoso. Quindi adesso sappiamo che la causa dei problemi è molto più probabilmente l'ambiente che ci circonda e il modo in cui reagiamo a esso. Queste cose, ansia, depressione e tutto il resto, sono strategie adattive. Se non credete a nient'altro di quello che ho da dire, spero che almeno crederete a questo. Sentimenti del genere sono normali. Siamo configurati per l'autoconservazione e la sopravvivenza. Ed è esattamente quello che fa il nostro cervello quando si comporta da schizzato. I nostri comportamenti sono risposte alle stronzate con cui dobbiamo fare i conti un giorno sì e l'altro pure. Il nostro cervello non reagisce solo ai grandi eventi traumatici che ci stravolgono l'esistenza, ma anche alle relazioni e alle interazioni tossiche che viviamo quotidianamente. Tutti quei modi impercettibili con cui la gente ci dà sui nervi, viola i nostri confini e non rispetta il nostro bisogno di sicurezza. Creando una miscela esplosiva delle due cose. E a quel punto sentirsi incasinati diventa un circolo vizioso. Ci sentiamo strani e pazzi perché ci sentiamo strani e pazzi. Deboli, spezzati, fondamentalmente difettosi. E questa è la sensazione più tremenda di tutte. Fondamentalmente difettosi significa impossibili da aggiustare. Quindi, perché darsi la pena di provare? Ma cosa succederebbe se fossimo in grado di comprendere da dove vengono tutti questi pensieri e sensazioni? E di capire qual è l'origine di tutto lo schifo che ci succede nella testa? E se in realtà fosse tutto perfettamente comprensibile? Significherebbe che potrebbe essere possibile rimediare. È importante, cazzo! La probabilità di stare meglio aumenta se conosciamo l'origine di un problema e se non ci concentriamo solo sui sintomi. Per esempio, se curiamo lo stress, l'ansia o la depressione, senza cercare le cause dello stress, dell'ansia e della depressione, non stiamo davvero facendo tutto quello che è in nostro potere per migliorare davvero le cose. È come se vi venisse un'eruzione cutanea? Portate pazienza, analogia disgustosa, lo so. Ecco, potete curare lo sfogo e magari farlo anche passare, ma se non capite a cosa siete allergici, è alquanto probabile che il problema si ripresenterà. Lo stesso vale per il cervello. Se riuscite a capire meglio perché fate le cose che fate, la parte relativa al miglioramento diventa molto più facile. E non è necessario spiegarlo con paroloni super complicati perché abbia senso e sia utile. Sono una psicoterapeuta. Una consulente abilitata, con specializzazioni aggiuntive in sessuologia, life coaching integrato e nutrizione clinica. Sono una terapeuta trauma orientata, il che significa che oltre a tutto il resto mi occupo di trattare i traumi. Questo ha due conseguenze. La prima è che alle occasioni sociali mi evitano come la peste. La seconda è che i miei pazienti sembrano stare molto meglio e molto più in fretta a dei pazienti dei miei colleghi che non includono il lavoro e la consapevolezza del trauma nella loro pratica clinica. Sia chiaro che non me la sto tirando. Sono i miei pazienti a fare tutto il lavoro. Io sono solo il coach. Sono quella che regge l'enorme striscione con suo scritto da questa parte, Forrest, sulla linea del traguardo. Lavoro nell'ambito della salute mentale da abbastanza decenni perché siate autorizzati a commentare «Cavoli, sei vecchia» e posso dirvi che la nostra attuale comprensione del trauma è piuttosto recente. Diversi anni fa ho lavorato per un programma che era il primo della mia città a tenere gruppi di recupero per il trauma. In quei gruppi mi resi conto che concentrarsi sulle storie anziché sulle etichette che ci appiccicavamo sopra, quindi depressione, ansia, dipendenza eccetera, aiutava le persone a stare meglio. Da allora ho studiato diverse altre modalità di trattamento del trauma e ho convinto parecchie agenzie e programmi ad adottare un modello di cura trauma orientato. Attualmente esercito privatamente e mi concentro sulle relazioni e sull'intimità. E indovinate un po' qual è il problema più grosso che incontro? Il trauma. Solleva la sua orrida testa ovunque. Ho scoperto che quando spiegavo tutto quello che stava succedendo in modo semplice i miei pazienti dicevano «Oh cazzo, è proprio così». Questo libro esiste perché nessun altro ha mai messo insieme tutta sta roba in modo semplice e pratico. E ho visto come la comprensione del problema aiuti le persone a star meglio molto più in fretta. Sto per dire una cosa che potrebbe rivelarsi controproducente per i miei affari. Non penso che tutti abbiano bisogno della terapia. Penso che ciascuno di noi possa impegnarsi per star meglio trovando la strada che gli è più congeniale. Alcuni meditano, altri vanno in palestra, altri ancora hanno un life coach e qualcuno va da un terapeuta. Altri fanno qualcosa di completamente diverso, sono tutte alternative valide. Perché, insomma, ognuno è una storia a sé. Qualunque sia il risultato finale, sono convinta che tutto funzioni meglio se si capisce il perché. A chi si rivolge a questo libro? A coloro che chiedono di continuo, ma perché? A quelli che da piccoli hanno tirato scemi gli adulti con domande su come funzionava il mondo per poter capire quale posto occupavano in esso. A chi odia sentirsi dire cosa fare dagli altri. A chi vuole semplicemente gli strumenti e le informazioni di cui ha bisogno per capire cosa fare per se stesso. Questo si può fare da soli oppure con l'aiuto di un terapeuta rock star che sa fare di meglio che non comandarvi a bacchetta. A ogni modo, sapete di essere gli artefici della vostra cazzo di vita. Perché sicuro come loro siete responsabili di tutte le conseguenze. A chi ne ha fin sopra i capelli di pensare di essere fuori di testa o stupido. Di sentirsi dire che è troppo sensibile o che semplicemente deve imparare ad accettarsi. A chi è stufo marcio di stare male, ma ancora più del fatto che gli altri credano che ci goda a stare male. Come se qualcuno potesse mai scegliere di essere infelice. Come se semplicemente vi rifiutaste di stare meglio. Come se voleste essere infelici. Lo vedrebbe anche un cieco che non è così. Ma siete a un punto morto e non avete idea del perché. Questo libro parla del perché siete infelici. In modo che possiate fare qualcosa al riguardo. Cosa succede in questo libro? Ok, so cosa state pensando. È tutto fantastico, cara dottoressa, ma come mi aiuterà questo libro? Che cosa lo rende tanto speciale e diverso dagli altri undici miliardi di manuali di autoaiuto che già rischiano di far crollare gli scaffali della mia libreria? Dire che sono scettico è un eufemismo. Parole sante, dovete esserlo. Anche la mia libreria è zeppa fino a scoppiare. Probabilmente ho letto quasi tutto quello che avete letto voi. Questo libro però è diverso, sul serio. E per ben tre ragioni. La prima? Vi darò qualche notizia scientifica. Non scienza complicata, arida e barbosa. Ma il tipo di scienza che vi fa dire Oh porca miseria, questo sì che ha senso. Perché cazzo nessuno me l'ha mai spiegato così. Prima? Nella professione privata ho scoperto che non ci vuole una laurea per capire sta roba. In genere sono in grado di spiegarvi quello che vi serve e sapere in circa 5-10 minuti. O in numero di pagine equivalente. Dipende dai casi. La seconda? Non vi butterò addosso tutta questa scienza per poi dire Già, un bel casino, è proprio uno schifo essere te. E prendere la porta. Vi darò invece parecchi consigli pratici e davvero applicabili per stare meglio. Non tutti hanno il tempo di concedersi il tipo di ritiro in stile Mangia, prega, ama. E chiaramente non sono affatto invidiosa o roba simile. La maggior parte di noi deve alzarsi ogni mattina, affrontare la vita vera E nel frattempo cercare di capire come stare meglio. Stare meglio non significa che non dovete continuare a fare il bucato. Perciò cercheremo di distrarci da tutto questo casino Usando le nostre forze come inti che siamo. Perché la volete sapere una cosa? La situazione non è senza speranza. Voi non siete senza speranza. Stare meglio si può. Se foste pazienti del mio studio, rimetteremo in riga quei demoni insieme. Questa è la cosa che più si avvicina ed è roba che funziona. Terzo, ho intenzione di passare in rassegna una marea di opzioni di cura papabili. Non sono contrari ai farmaci e alla medicina occidentale, ma credo che siano da considerare una delle molte strade disponibili. Approccio olistico significa prendersi cura della persona nel suo complesso. E dobbiamo escogitare un piano che funzioni per noi. Per esempio, la mia miglior linea di difesa è mangiare sano, essere costretta a fare esercizio di tanto in tanto, prendere integratori alle erbe e includere agopuntura, meditazione, massaggi e pedicure nel mio regime di benessere. E combatterò chiunque fino all'ultimo mezzo, sì, citazione della storia fantastica, per la mia convinzione che la pedicure sia terapeutica. Per mio figlio sono il football, il sollevamento pesi, gli esercizi di grounding, la meditazione, un ambiente scolastico altamente strutturato, il neurofeedback e una combinazione di integratori e farmaci occidentali. Tutti noi abbiamo bisogni unici. Strano a dirsi, la pedicure non compare sulla sua lista. Perciò snocciolerò un bel po' di opzioni di cui magari non avete mai sentito parlare per darvi una mano a creare il vostro piano di attacco personale. Infine, nel corso del libro ci saranno mini esercizi che vi aiuteranno a elaborare il lavoro che state facendo. Non sono compiti a casa. Non dovete superare un esame, ma avere modi per elaborare tutto quello che potrebbe capitarvi è importante. Ma per l'amore del cielo, non voglio che il mio libro vi crei più ansia di quella che avete. Non usatelo se non vi serve. Ma è qui se ne avete bisogno. Pronti via, prendetevi la temperatura. Quanto spesso nella vita vi siete davvero concessi di provare ciò che provate? Di rado, se non mai, scommetto. Questo libro è tutto incentrato sul trovare un modo di superare i vari tipi di schifezze che ci intralciano per avere la vita che desideriamo e il senso di pace e scopo cui aneliamo. Il genere di stronzate che chiamiamo eventi traumatici. È rivolto anche alle persone con reazioni fortissime di stress, ansia, dolore, rabbia, depressione e o comportamenti dipendenti. Ovvero tutte le abilità di coping che sviluppiamo per andare avanti nella vita senza tentare di porvi fine. Tutte cose che possono rendere la lettura stressante. Qualche paragrafo potrebbe rivelarsi un pugno nello stomaco perché tocca una verità fondamentale della vostra vita e della vostra esperienza. E il vostro cervello non sarà felice di provare quella sensazione. Potrebbe reagire così. Vaffanculo sto casino e sbatti via quel libro. Perché in genere ci viene detto di non provare emozioni negative. Sono brutte e vanno evitate. E vedremo meglio perché questa qui è una stronzata bella e buona. Nel frattempo però può essere davvero utile soffermarsi su ciò che provate. Prendervi la temperatura, per così dire. E avere pronto un piano se si alza troppo. Più avanti nel libro imparerete altri esercizi che potrete adottare. Ma iniziamo con i più semplici. Chiudete gli occhi e notate. Cosa succede nel vostro corpo? Cosa state pensando? Potrebbero non essere pensieri veri e propri, ma spezzoni di ricordi. Cosa provate a riguardo? Date un nome a queste emozioni. Valutatene la gravità. Adesso che cosa succede fisicamente nel vostro corpo? E sul serio, nel vostro quotidiano, quali circostanze vi danno una mano ad andare avanti? E quali peggiorano le cose? L'esercizio potrebbe rivelarsi difficilissimo. Molte persone non hanno uno straccio di idea di come si sentono. E va bene così. Siete stati addestrati a disconnettervi dalle emozioni. Vi è stato detto che quello che provate era sbagliato. Che provavate era sbagliato. Che non vi era permesso di sentirvi così. Quindi, se non lo sapete, ammettete anche questo. Potreste scoprire che, ripetendo l'esercizio, con il tempo ricomincerete a connettervi a quello che provate. Il fatto di non sapere non fa di voi un libro di autoaiuto fallimentare. È solo un altro pezzo di informazione vitale che vi dice dove siete in questo momento. Ciò che fa questo esercizio è restituirvi il potere di appropriarvi di quello che succede dentro di voi. Avete il permesso di provare ciò che provate. Imparare a riconnettervi con la realtà della vostra esperienza vi aiuterà a trovare le risorse di cui avete bisogno per andare avanti. Perché ve lo meritate. Dovremmo onorare il passato, dovremmo ricordarlo e dovremmo rispettare ciò che ci ha insegnato. Ma non dobbiamo continuare a viverci. Quella casa è pericolante e tossica è assolutamente troppo piccola per contenervi. Non sostiene la vostra esperienza presente e sicuro come loro non si adatta ai vostri obiettivi futuri. Parte prima. Ecco a voi il cervello. In che modo il nostro cervello si incasina? Risposta breve. Il trauma. Questo libro parla in sostanza del trauma e delle nostre reazioni traumatiche, delle schifezze dell'esistenza e della stronzaggine degli altri che ci impediscono di vivere alla grande. Parla anche di come creiamo strategie di coping per affrontare lo schifo che i dottori fighi chiamano ansia, depressione, dipendenza, rabbia, ecc. Tali strategie sono parte essenziale del complicato processo che il vostro cervello mette in atto dopo che vi è successo qualcosa di brutto. In realtà il cervello sta solo cercando di fare il suo lavoro che consiste nel proteggervi nel modo migliore che conosce ma spesso finisce invece per non essere di grande aiuto. È come quell'amico che si offre di prendere a pugni qualunque testa di cazzo che vi rompe le scatole. Gratificante ma non molto utile nel lungo periodo. Questo libro parla anche delle schifezze della vita in generale e della stronzaggine delle altre persone. Roba che potrebbe non essere traumatica in sé ma che non rende le cose più facili. I modi con cui gestiamo le cose che non sono un trauma a pieno titolo. Ma di certo non sono gattini, arcobaleni e orsetti di peluche. Come succede per il trauma le strategie adattive che creiamo per queste situazioni tendono a diventare sempre meno utili con il passare del tempo e decisamente estenuanti. La buona notizia è che indipendentemente da quanto a lungo siete bloccati in queste sabbie mobili potete riconfigurare la vostra risposta e spegnere il cazzo di cervello. Perché il mio cervello è un casino infernale? Abbiamo la tendenza a separare il benessere mentale da quello fisico. come se non si influenzassero di continuo in un fottutissimo circolo vizioso o qualcosa del genere. Le cose che impariamo sul cervello di solito ricadono nella categoria salute fisica. Invece pensieri, sentimenti e comportamenti ricadono nella categoria salute mentale. Quindi in che punto del corpo si collocano pensieri e sentimenti? Pare quasi che la mente sia una specie di palloncino gonfio a elio che ci fluttua sopra la testa. Magari lo teniamo per la cordicella ma non è veramente parte di noi anche se siamo ritenuti comunque responsabili di tutto quello che fa. Quest'immagine di un cervello disincarnato non è utile. Non ha uno straccio di senso. E quello che sappiamo davvero del cervello è questo. Che almeno una parte di esso risiede nell'intestino dove ci sono microrganismi unici i quali comunicano con il cervello vero tramite l'asse intestino-cervello una cosa concreta tanto sistematicamente da essere considerati un secondo cervello il quale gioca un ruolo enorme nel guidare le nostre emozioni. Mai avuto una reazione di pancia? Ecco, quella è una cosa reale. Questo significa che anziché essere una cosa con cui abbiamo un legame esile e che ci ficca nei casini ogni due per tre la mente in realtà risiede all'interno del nostro corpo e agisce come un centro di controllo processando enormi quantità di informazioni e prendendo decisioni prima ancora che noi siamo consapevoli della necessità di farlo. I pensieri i sentimenti i comportamenti vengono da qui. sono radicati nella profondità del nostro corpo fisico nel modo in cui il cervello percepisce il mondo che ci circonda sulla base delle esperienze passate e delle informazioni attuali. Quindi dire che conoscere cosa succede nel nostro cervello e come funziona è un'impresa titanica potrebbe essere l'eufemismo del secolo. E quando ce ne rendiamo conto davvero capiamo che il modo in cui interagiamo con il mondo è una risposta del tutto normale se prendiamo in considerazione il funzionamento del cervello e le nostre esperienze passate. Se va tutto liscio e l'atterraggio è morbido non notiamo alcun problema. Ma cosa succede quando capita un atterraggio brusco? Quando il controllo del traffico cerebrale non gestisce le cose nel modo corretto ne vediamo gli effetti. Diamo di matto? Evitiamo cose importanti che è necessario affrontare? Siamo perennemente incazzati? Ci comportiamo da merde con le persone a cui teniamo? Introduciamo nel corpo schifezze che sappiamo non ci fanno bene? Facciamo cose che sappiamo idiote, inutili o distruttive? Nessuna di queste cose è d'aiuto neanche per sogno ma tutte hanno senso. Le cose brutte capitano. Il cervello immagazzina le informazioni per cercare di evitarle in futuro. Si è semplicemente adattato alle circostanze della vostra vita e ha iniziato a fare cose per proteggervi. Che Dio lo benedica. Certe volte queste risposte sono utili. Altre volte diventano un problema più grosso del problema reale. Non sta cercando di mettervi nei casini anche se a volte sembra. E se non siete alle prese con un trauma specifico? Le strategie adattive, le cattive abitudini e i comportamenti folli funzionano tutti in modo simile. e la ricerca sta dimostrando che tali questioni sono in realtà alcune delle più facili da curare in terapia a patto di concentrarsi sul problema vero anziché solo sui sintomi. Ho scoperto che una delle cose più utili che faccio come terapeuta è spiegare cosa succede dentro il cervello e in che modo e in che modo il lavoro che facciamo in terapia mira a riconfigurare le nostre reazioni a determinate situazioni. Le strategie su cui lavoriamo in terapia e le strategie e le abilità che le persone trovano da sole hanno lo scopo di riportare il cervello a elaborare le informazioni senza scatenare reazioni eccessive. Le reazioni eccessive sono il modo con cui il nostro cervello si adatta e ci protegge tutte le volte che percepisce una situazione come una minaccia così che siamo preparati a fare qualunque cosa sia necessaria per restare vivi. è come se si attivasse una specie di modalità battaglia come nei videogiochi anche se il nemico è solo un tizio qualunque accanto a voi il quale non ha la più pallida idea di aver appena toccato un nervo scoperto. Se riusciamo a riguadagnare il controllo possiamo reagire a queste minacce percepite nel modo più sicuro e razionale possibile. Molto bene questo è tutto spero che l'estratto vi sia piaciuto fatemi sapere se leggerete il libro vi ringrazio per l'attenzione alla prossima Grazie. Grazie.